La statua infinita del leone, perché la cavalcattura del Buddha quando si entra nel paradiso, nel nirvana, scusami, nel paradiso perché nel mondo buddhistico non c'è il paradiso, solamente il vuoto. Quando il Siddhartha si era capace di entrare nel nirvana con la sua cavalcattura mentale che si chiama leone. Qui le statue dei leoni non sono terminate, finite. Secondo noi adesso la gente del passato non aveva il tempo, come modo di pensare di vivere della umana moderna. Non abbiamo il tempo, naturalmente abbiamo 24 ore, però solamente come per dividere bene tutte le attività. Quindi una cosa ottimale è che abbiamo 24 ore, però con tutte le varie cose da fare, mentre quando eravamo piccoli abbiamo 24 ore, però solamente mangiare, giocare e giocare e giocare, non lavorare, mentre quando siamo adulti lavorare, giocare, creare qualcosa, tutte le cose infinite, quasi infinite che dobbiamo farle. Per questo non indica che la gente del passato non aveva il tempo, però avevano tantissime cose da fare. Quindi per creare la totalità delle pietre, fino a 2 milioni delle pietre, con tantissimi lavori, non è una cosa perfetta. Non c'è la perfetta del mondo, per questo solamente due statue dei leoni sono infinite, per ricordarsi che idealmente dobbiamo copiare la loro mentalità del passato. 24 ore, però tutte le cose da fare, siamo più avanzati, con questo modo di pensare. Bella questo leone!